Sindaco, credo una serata veramente toccante perché sentire i problemi di queste persone e trovarsi anche nel posto in cui sicuramente si vorrebbe fare di tutto e di più, speri, pensi che questa serata sia una serata che sarà proficua? Credo sia stata una serata molto importante perché è organizzata dalla Regione che ci ha chiesto spitalità per un tema che coinvolge direttamente gli organismi regionali ed evidentemente coinvolge anche il Comune. La pesca sta soffrendo, sta soffrendo in modo particolarmente importante ed in particolare per quanto riguarda la vicenda delle tre miglia che conosciamo tutti essere una delle vicende che più colpiscono la pesca locale. C'è una legislazione europea che è penalizzante, particolarmente penalizzante per il nostro tipo di pesca. Non si tiene conto del fatto che è una pesca che ha delle caratteristiche particolari, c'è un pesce particolare che non è pesce piccolo ma è un pesce adulto, con misure piccole e che quindi dovrebbe essere consentito, l'Europa non invece permette questo tipo di pesca. Ci sarà un lavoro che la Regione, unitamente il Comune, farà presso l'Europa affinché si possa ottenere il riconoscimento di una idea dove confidiamo che questo possa essere il più rapidamente possibile. Senz'altro posso testimoniare anche personalmente per il fatto di essere stato l'inizio ottobre a Bruxelles le difficoltà non sono poche all'orizzonte. C'è un atteggiamento dell'Europa che intende colpire la pesca in termini generali e quindi l'attenimento di qualsiasi tipo di deroga è senz'altro difficile ma noi ci dobbiamo provare. Grazie signor. Grazie.